A noi il mio personale è di Castellani di Maria, voi e benvenuti a tutti voi e questa sera ci onorate della vostra presenza a questa confessazione comunitaria su San Giuseppe Maria Tomasi nel giorno della sua nascita a Cielo, infatti San Giuseppe Maria Tomasi è morto qui a gennaio del 1713, però la festa di Pugli è stata spostata al 3 gennaio. Un ringraziamento particolare all'Ordine Repubblica Valeria di Cristo che ha costituito di leggende la nuova monumenta a Palma di Monti Chiaro appartenente al valutato di Angicetti. Vi accogliamo tanta prospedità e presenza nel territorio al servizio degli ultimi. Un saluto al nostro dicano giornalista di Repubblica, che ci sente con tanta passione e con tanto amore verso il Castellani di Maria. Allora che staveremo di ringraziare la donna Antonia Semina e il Perciclete e Don Caecano Montana per averci spinto, come ogni anno, a organizzare questo incontro per ricordare e onorare il nostro Santo e celebrare questo evento per far conoscere la sua virtù. Non vi nascondo che molti i nostri non cittadini nemmeno sanno la Chiesa di San Giuseppe Maria Tomasi, nemmeno io lo conoscevo. Io ho avuto la fortuna di conoscere di scoprire di San Giuseppe Maria Tomasi proprio qua, in Chiesa Madre, quando c'è stata l'opportunità, in Chiesa Madre durante la presentazione del libro dell'Avvocato di Arnon Amato, il povero, il topo, il santo, è stato pulito, il primo che si è interessato proprio per cercare di avere notizie su San Giuseppe Maria Tomasi. E addirittura noi, poi successivamente con la nostra associazione, Giulio Tomasi, ogni anno, il 3 gennaio, davamo a Roma e partecipavamo alla generazione della messa sul San Giuseppe Maria Tomasi. Noi valmesi dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto questo grande santo che è stato grande negli studi per le ombre e gli scritti che ha lasciato sulla liturgia, che sono dei grandi tesori per la Chiesa, tant'è vero che il Papa Clemento XI l'ha creato cardinale di Santa Romana Chiesa. Possiamo affermare senza un grande dubbio che è stato il precursore del Concilio Vaticano II. In verità, non cunque norme che sanciti dall'audità dei Romani Contefici e dai documenti del Concilio Vaticano II, sono oggi lodevolmente in uso nella Chiesa, furono già proposte e vivamente desiderate da padre Tomasi. Tra questi basta ricordare la forma attuale della liturgia delle ore per la preghiera dell'Ufficio Divino, la destinazione dell'uso del messare tradizionale nella generazione eucalistica, varie norme contenute nel pontificare e nel rituale romano, l'uso della lingua volcana, che lui già stesso raccomandava nelle condizioni più late nelle preghierie, fatte in comune delle vere, tutto poi inteso a promuovere una più intima e impersonale partecipazione del popolo di Dio alla generazione della Chiesa. Oggi, per ricordare il nostro santo, abbiamo scelto il tema di San Giuseppe di Marietto Massimo, il liturgista, la preghiera. Ci unisce auguriamo che queste notte iniziativa possano restare maggiori interessi nella comunità e specialmente nei giovani, affinché tutti possano seguire il suo esempio che cresce nevano umani e cristiani e così dare impulso alla nostra città di Palma di Montecchiavo. Diamo un saluto ancora agli nostri invitati, agli statuatori, in modo particolare all'indice parallelato a Caetano Montano, in acqua a città della nostra Chiesa madre, per un saluto. E poi voglio ringraziare a noi e a noi di tutta la comunità parlando a Caetano, per essere riuscito in breve tempo a far rispondare la preghiera della Madonna nel Rosario dopo l'incente, per aver dato voce al nostro organo, per aver realizzato quel meraviglioso incontro della nostra piazza e tante altre cose che ancora hai portato avanti. Grazie. Un applauso città. Grazie. Grazie e con la famiglia, non ho potuto venire. E' assieme a Fragola Perla, hanno fondato assieme a Fragola Perla il capale di San Giuseppe Maria Tomasi di Riccardo. Il quadro musico era la figura di San Giuseppe Maria Tomasi, un culturista da preghiera. Il nostro programma che si lavora, ascolteremo dei brani di musica eseguiti con loro da un grande, bravissimo Giovanni D'Avro. Quindi possiamo dare iniziò a dire un brano che ascolteremo ora nel prevedio del Tedeo di Shabbat. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 Ci onora di questa presenza e di questo cammino, ringrazio a tutti perché la presenza dice la voglia che abbiamo di continuare a crescere. Spero che i piccoli passi che abbiamo fatto possano piano piano aumentare l'intensità in modo che i piccoli passi possano diventare un cammino e io vi ringrazio perché è l'opportunità di un altro piccolo passo all'interno di un cammino. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e... 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 ... e... 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 ... e... ... ... ... ... ... ... e... ... ... ... e... 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 e...